La cosa più importante è che non innamoriamoci dei nostri recinti, non innamoriamoci degli interessi dei singoli partiti. Pitonci ha consegnato Padova una situazione oggettivamente molto difficile che adesso merita uno sguardo avanti, un superamento, una ricostruzione. Questo si può fare solo se ciascuno fa alcuni passi a lato, riesce ad ascoltare anche chi è a fianco. Un passo a lato che significa per il Partito Democratico la necessità di superare le divisioni interne e di andare oltre il mero interesse del partito, correggere gli errori, ritrovare le periferie e abbandonare la logica delle poltrone. Ormai la diversità di vedute è chiara tra chi, come l'ex sindaco Zanonato, vuole puntare tutto sulla prova muscolare di una sinistra e chi, interpretando le diverse anime della città, cerca sponde al centro e tra i cattolici. Credo che il loro percorso sia molto interessante, ha una visione che mi stimola, che osservo con attenzione e credo che appunto nel rispetto anche delle reciproche diversità possiamo però arricchire un'idea che diventa forza per la città. Il riferimento è al progetto politico di Padova 2020, oggi coalizione civica per Padova, cui i renziani guardano con interesse. Un punto di rottura, questo chiaramente emerso dalla direzione del partito. Ciascuno esprime il suo pensiero con la forza necessaria, però la sintesi finale è di assoluto buonsenso, costruttiva, mette il partito democratico nelle condizioni di fare il suo dovere nel modo migliore possibile per la città. È l'unica cosa che conta.